Ciao, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video acquisti beauty per quanto riguarda Lidl ho tenuto anche il sacchetto, questo qui di carta adesso lo mettiamo qua giù voglio mostrarvi per l'appunto gli ultimi acquisti beauty che ho fatto in casa Lidl e in più voglio mostrarvi anche alcuni prodotti sempre beauty, sempre Lidl che acquisto e che utilizzo da diversi anni e che ormai per me sono dei must have, dei preferiti e voglio assolutamente mostrarveli e consigliarveli quindi sarà sì, un misto fritto, un haul ma anche un video review per quanto riguarda i prodotti beauty Lidl, Sien nello specifico e direi di partire subito io direi di partire subito da quei prodotti che per me sono diventati una garanzia dei must have quei prodotti che ho già utilizzato in passato e che continuo a riacquistare proprio perché in passato mi ci sono trovata benissimo questa è la terza confezione che riacquisto di questo prodotto me ne sono follemente innamorate, non posso farne a meno trovo che sia un ottimo prodotto in relazione alla quantità, qualità e al prezzo e stiamo parlando di questo sapone con antibatterico questo promette pulizia e freschezza deterge delicatamente la pelle e ha un complesso di sostanze idratanti con estratto di aloe vera qui c'è anche il bollino vegan 500 ml, 1,20 euro a prezzo pieno, spesso si trova anche in promozione a 99 centesimi la sua formula è clinicamente testata ed è adatta per un utilizzo quotidiano e aiuta a rimuovere efficacemente i batteri all'interno troviamo estratto di aloe vera e glicerolo che si prende cura delle mani già dal lavaggio e dona una fresca sensazione di igiene trovo che sia un sapone liquido con antibatterico molto versatile io lo utilizzo in cucina, lo utilizzo in bagno, multiuso molto delicato ma allo stesso tempo pulente e non mi secca le mani mi lascia le mani davvero molto morbide e delicatamente profumate comodissimo poi il dispenser che si può tranquillamente riutilizzare mi è capitato anche di riutilizzarlo senza problemi anche per altri prodotti e quindi nulla, ve lo straconsiglio prodotto davvero top ovviamente non ve lo dirò per ogni prodotto ma parliamo di prodotti Sien il brand che trovate da Lidl o Sien o Sien Nature perché c'è anche la linea con buoni inci, certificate eccetera eccetera della Lidl comunque altro prodotto che continuo a riacquistare sempre questa sarà forse la quarta o quinta confezione che riacquisto altro prodotto garanzia è questo Talasso Scrub lo scrub esfoliante con vitamina E e sale marino anche qui c'è il bollino vegan 600 grammi di prodotto prezzo pieno, non lo ricordo esattamente ma intorno ai 4 euro spesso si trova in promozione io sono andata nell'ultimo mese un paio di volte da Lidl e l'ho trovato entrambe le volte in promozione a 3 euro e 19 ottimo, ottimo affare qui c'è scritto che il Talasso Scrub Sien abbina le proprietà esfolianti e purificanti del sale marino alle proprietà antiossidanti della vitamina E rendendo la pelle morbida e pronta a ricevere i trattamenti specifici la pelle più liscia e levigata e dona una piacevole sensazione di rivitalizzazione non posso far altro che essere d'accordo con la dicitura e con la descrizione di questo prodotto io ve ne ho parlato tante volte quindi sapete che per me è alla pari dei miei amati Caloderma, Geomar, Equilibra è composto da una parte salina esfoliante ma anche da una parte oleosa idratante è uno scrub che va per l'appunto ad esfoliare rimodellare la pelle del corpo senza però aggredirla esfolia e al tempo stesso idrata nutre la pelle del corpo non è un prodotto assolutamente aggressivo quindi francamente mi sento di consigliarlo con cautela ovviamente con piccoli massaggi anche alle pelli più sensibili per me prodotto da 10 lode prodotto dell'anno forse se vogliamo per quanto riguarda Lidl ma tutti i prodotti che vi mostro per me sono da 10 lode prodotti dell'anno questo se dovessi sceglierne uno lo metto sul podio proprio il numero uno fantastico, scopertona poi vado avanti con altri prodotti che già conosco che già acquisto da diverso tempo uno dei miei detergenti intimi preferiti è proprio lui questo qui di Sien il gel detergente intimo per uso quotidiano con aloe vera questo ha pH 4.5 sono 500 ml di prodotto tantissimo comodissimo anche il packaging e questo a prezzo pieno costa intorno all'euro e 50 forse addirittura meno 1,39 euro e anche questo lo trovate spesso in promozione io questo lo utilizzo forse è uno scherzo da 5-6 anni adoro questo così come adoro quelli di Neutromed ma devo dire che come qualità prezzo e anche quantità perché un bel bibitone da 500 ml è imbattibile è un detergente intimo molto efficace ma allo stesso tempo delicato e trovo che si adatti perfettamente a diverse fasce d'età dalle più piccole alle più grandi quindi prodotto assolutamente straconsigliato se ancora non l'avete provato poi altro prodotto che riacquisto ogni tot questo non lo riacquistavo da un po' di tempo in passato l'ho utilizzato 2-3 volte quindi 2-3 flaconi adesso non lo acquistavo da un po' di tempo perché stavo testando altri prodotti è quest'acqua micellare ultra delicata la versione per pelli secche e sensibili c'è anche una versione per pelli normali ma io ho sempre acquistato questa qui con la banda rosa per intenderci per pelli secche e sensibili strucca deterge viso occhi e labbra questa è con acqua di bambù pantenolo e glicerina senza alcol e senza profumo sono 250 ml di prodotto e se non mi sbaglio a prezzo pieno siamo intorno ai 2,50 euro massimo 3 euro devo dire che mi piace tantissimo la confezione mi piace anche gli spencer si apre così qui poggiate il dischetto fate un pump e preleva la giusta quantità di prodotto per ogni applicazione devo dire che si tratta di un'acqua micellare molto molto delicata ma allo stesso tempo efficace perché io andavo ad utilizzarla come faccio con tutte le acque micellari sul viso e sulle labbra per gli occhi preferisco sempre qualcosa di bifasico di più strong comunque efficace per viso e per labbra andava a rimuovere tutto quanto con pochi passaggi e ripeto è indicata anche per le pelli più sensibili quindi non è assolutamente aggressiva come acqua micellare non brucia non irrita non arrossa in emergenza si può utilizzare tranquillamente anche per gli occhi io ve lo dico sempre quando utilizzo le acque micellari lo step successivo una volta che mi sono struccata è quello del gel detergente o della mousse vado sempre a risciacquare il tutto comunque ottimo prodotto che vi straconsiglio piccolo prezzo ottima resa parliamo adesso di capelli prodotti che riacquisto da tantissimi anni sono i prodotti per capelli di PH Bio la linea biologica certificata per quanto riguarda i capelli che trovate da Lidl io acquisto da tantissimi anni il balsamo camomilla e aloe vera sono prodotti con estratti vegetali 100% bio privi di parabeni paraffine minerali coca midedea peg eccetera 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 sono confezioni da 250 ml l'una e costano a prezzo pieno circa 3 euro vedete questa è una confezione chiusa perché ancora non l'ho utilizzato c'è un motivo perché nell'ultimo periodo si intende qualche mese fa avevo trovato da Lidl questa edizione limitata PH Bio Vegetal e avevo comprato shampoo e balsamo questi nello specifico sono shampoo e balsamo rinforzante con estratto di zucca bio e keratina vi dicevo sono prodotti certificati biologici bio ecocosmesi IAB esatto le confezioni di questi prodotti se proprio dobbiamo trovare una pecca sono un po' scomode perché sono dure quindi è anche un po' difficile far uscire il prodotto però vi dico il prodotto all'interno è molto valido devo fare una piccola precisazione io solitamente mi trovo molto meglio con il balsamo di queste linee piuttosto che con lo shampoo perché? perché lo shampoo è valido però per me è un nì non è né un promosso né un bocciato sicuramente ha un buon potere lavante lava il capello e lo tiene pulito per quei due tre giorni non di più però di contro ha che almeno per quanto riguarda me sul mio cuoio capelluto sulla mia lunghezza lo trovo un attimino aggressivo tant'è che alcune volte dopo averlo utilizzato ho notato un po' di forfora e vi dico io non ho mai sofferto di forfora quindi ecco gli posso dare un 6 arriviamo giusto alla sufficienza ma quello che voglio promuovere più di tutti è il balsamo io vi parlo adesso di questo perché in questo momento sto utilizzando questo sotto la doccia ma per me questi balsamo della PH Bio bene o male sono uguali hanno la stessa formulazione cambia solo la profumazione si tratta di un balsamo bello strong dalla consistenza bella densa ottimo potere ammorbidente districante nutriente anche lucidante perché dona un bellissimo effetto lucido sul capello senza però appesantirlo quindi vi stracconsiglio il balsamo della PH Bio in tutte le sue varianti ecco lo shampoo varia un po' da persona a persona capello a capello però il balsamo è alla pari di una maschera per quanto è ammorbidente e districante prodotti davvero eccezionali altro prodotto che acquisto ormai da diverso tempo e con il quale mi trovo benissimo è questa maschera sempre per quanto riguarda i capelli è questa maschera per capelli alla banana è Fruits by Cien anche qui vegan maschera per capelli secchi questa contiene il 98% di ingredienti di origine naturale sono 400 ml e a prezzo pieno siamo intorno ai 3 euro c'è anche la versione alla papaya ricorda tantissimo perché anche questo ve l'ho detto diverse volte le ben più famose air food di Garnier Fructis anche lì c'è la banana c'è la papaya ci sono tante varianti comunque la mia preferita questa è chiusa se non sbaglio e non l'apriamo perché voglio terminare altri prodotti che ho sotto la doccia questa non l'ho ancora utilizzata però ne avrò utilizzato nel corso di questi anni 3-4 confezioni trovo che sia una maschera per capelli davvero ottima forse il balsamo della PH Bio è alla pari perché anche questa ha un ottimo potere nutriente ammorbidente districante lucidante e non appesantisce assolutamente i capelli è un 3 in 1 perché si può utilizzare in 3 diversi modi come balsamo dopo lo shampoo come trattamento intensivo e come siero per punte senza risciacquo io prevalentemente la utilizzo come balsamo dopo lo shampoo quindi passo velocemente sui capelli e dopo un minuto risciacquo altrimenti come maschera e la utilizzo direttamente sotto la doccia la lascio agire dopo lo shampoo quei 3-4 minuti nel frattempo se mi devo depilare mi depilo se devo fare lo scrub faccio lo scrub bagno schiuma e poi vado a risciacquare il tutto davvero un ottimo prodotto e poi ha una profumazione super super buona assolutamente top da acquistare passiamo adesso a dei prodotti che non ho mai provato che ho acquistato recentemente ma partirei da un prodotto che ho acquistato una singola volta o forse due in passato tanti anni fa che appena ho visto sullo scaffale ho detto ma sai che c'è l'ho riacquisto perché ricordo di essermi trovata benissimo e poi vi mostro tutto il resto sto parlando di un profumo questo è il Suddenly Madame Glamour 75 ml di prodotto a prezzo pieno siamo sotto i 5 euro questo è un dupe del ben più famoso Coco Mademoiselle di Chanel io ripeto l'ho provato in passato diversi anni fa ricordo di essermi trovata benissimo ovviamente come profumino molto carina la confezione così in vetro è rimasta identica a come la ricordavo ovviamente come profumino da tutti i giorni penso che questo me lo porterò al lavoro da tenere magari nell'armadietto e da spruzzarmi magari finito il turno prima di rientrare a casa è un ottimo profumo perché ha una buona profumazione che comunque ricorda il Coco Mademoiselle di Chanel e in più ha un'ottima durata è davvero un buon compromesso insomma se cercate un profumino da tutti i giorni non penso ci sia scritto qualcosa esatto volevo dirvi magari le note di testa bla 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 ma non c'è scritto niente comunque provatelo perché è davvero un ottimo prodotto poi mentre ero lì che fissavo lo scaffale e prendevo appunto il profumo ho visto anche la crema per le mani cosa fai non la prendi costava forse meno di 3 euro e ho detto ma sì proviamola l'ho già provata alla stessa identica profumazione del profumo uguale Suddenly Madame Glamour sono 100 ml di prodotto ripeto siamo sotto i 3 euro come crema anche qui per le mani da tutti i giorni da tenere in borsetta a rapido assorbimento e si tratta di una crema per le mani con olio di argan e burro di carite Cocco alle tuoi sensi con la profumazione seducente femminile sì è una profumazione realmente seducente femminile poi all'interno c'è anche il mandarino ecco magari riesco a dirvi qualcosina anche in più del profumo mandarino frutti di bosco gelsomino rosa accenno anche di bergamotto insomma mi ha rapito ovviamente la profumazione poi come crema per le mani è molto leggera ha rapido assorbimento perfetto da portare in borsetta adesso vedete me la spalmo con voi buonissima no dovete provarla assolutamente ma andiamo avanti altri prodotti che ho acquistato e che non ho mai trovato sempre per quanto riguarda i capelli ho deciso di provare anche la linea classica Sien io ho preso loro due shampoo e balsamo pro vitamin shampoo e balsamo repair and protect per capelli danneggiati con pro vitamina B5 ve li ho mostrati anche nel vlog che ho caricato in precedenza ve lo lascio magari linkato qui da qualche parte perché lì vi ho fatto una svuota alla spesa comunque si tratta di due confezioni da 300 ml se non sbaglio lo shampoo era in offerta a 1,70 euro circa mentre il balsamo a prezzo pieno intorno ai 2 euro 2,50 euro ma sono confezioni da 300 ml e si tratta per l'appunto di prodotti indicati per capelli secchi e danneggiati non vedo l'ora di testarli adesso devo terminare questi due della pH bio e ho anche qualcos'altro sotto la doccia ma dopodichè inizierò a testare questi perché sono davvero molto molto curiosa poi ho deciso di acquistare anche un nuovo doccia crema voi sapete che io vado pazza per i doccia crema appena trovo qualche profumazione particolare che mi aggrada mio che sia dall'idol acqua e sapone eccetera eccetera l'altro giorno ho trovato questo talco e rosa ma secondo voi potevo lasciarlo lì? ovviamente no questo è un doccia crema idratante con note di talco con estratto di rosa rinfrescante e setificante anche qui c'è il bollino vegan sono tutti prodotti vegan no non sono tutti prodotti vegan però la maggior parte sì sono 500 ml l'ho pagato a prezzo pieno 1,60 euro ma ripeto appena ho visto talco e rosa non ci ho più visto perché sono forse le mie due profumazioni preferite in assoluto lo apro perché tanto ho intenzione di utilizzarlo a breve io sento molto molto il talco e quasi per nulla la rosa comunque una profumazione che sta di buono e di pulito e spero che sia in quanto doccia crema anche nutriente idratante sulla pelle del corpo che insomma non vado a tirarmela nulla vi farò sapere sono molto molto curiosa e infine gli ultimi due prodotti che vi mostro sono questi due prodotti che ho comprato qualche mese fa ma che non ho ancora utilizzato della CN Nature questi facevano parte di un'edizione limitata ma adesso ho visto che sono in linea permanente quindi se vi interessa buttateci un occhio io ho preso la crema per le mani perché sto finendo un po' di robine in giro per casa e mi servivano delle scorte crema mani contorno occhi ma se non sbaglio c'è anche la crema per il viso e la crema nel barattolo multiuso non vorrei sbagliarmi io ho preso crema per le mani e contorno occhi sono della linea aloe vera bio vegan anche questi idratano e proteggono la pelle allora per quanto riguarda la crema mani ecco è questa qui ve la mostro un attimino meglio qui c'è scritto idratazione intensa assorbimento rapido rigenerante con aloe vera bio e burro di carite bio 75 ml sono prodotti che ho pagato circa 2 euro davvero pochissimo si tratta di una delicata crema per le mani con aloe vera ad agricoltura biologica che si assorbe rapidamente coccola la pelle con il suo effetto idratante intensivo all'interno c'è anche il burro di carite biologico che rafforza la naturale funzione protettiva della pelle la lascia morbida ed elastica 100% cosmetici naturali certificati eccetera eccetera scorte con le creme iniziamo a testarle e poi abbiamo il contorno occhi che ha un'azione delicata azione delicata per un'idratazione intensa che può contribuire a ridurre le rughe sempre con aloe vera bio e burro di carite sono i canonici 15 ml di prodotto e anche questo l'ho pagato circa 2 euro anche qui sto terminando alcuni prodotti che ho in bagno e dopodiché inizierò a testarlo ovviamente non ho grandi aspettative penso di utilizzarlo come contorno occhi da tutti i giorni come base per trucco e non vedo l'ora di testare tutto quanto ok io ho terminato spero che questo video ma anche questa tipologia di video vi sia piaciuta perché vorrei portarla più spesso sul canale che sia Lidl che sia Acqua e Sapone altri punti vendita per quanto riguarda il beauty se così fosse se vi è piaciuto questo video e questa tipologia un bel like aspetto i vostri commenti qua sotto io vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video ciao